Questo fine settimana Arzachena vivrà una prova importantissima di supercross a livello regionale. Farà parte di questa Kermes anche il pilota di punta del motociclismo isolano Luca Manca. Con che spirito affronti questa nuova avventura Luca? Lo spirito è alto e buono, perché comunque sarà una gara di altissimo livello, che saranno magari campionato italiano e supercross, quindi verranno sia piloti italiani che praticano solo supercross e più qualche straniero. Comunque lo spettacolo sarà assicurato, la pista è di alto livello, perché l'hanno fatta direttamente gli organizzatori. L'ha fatta Armando Dazzi, che è quello che organizza le piste per le gare di campionato del mondo in Italia e in Europa. Quindi saranno spettacolari, tecniche e anche selettive. Poi i piloti saranno preparati, perché comunque questa è una delle prime prove, quindi i piloti stanno cercando di vincere e portarsi avanti in classifica. Per i sardi sarà dura. Io ancora valuto se corre oppure no, perché devo ancora vedere se la moto nuova è idonea e pronta. Comunque se non partecipo sarò lì presente a vedere la gara, perché comunque sarà uno spettacolo che finalmente uno dovrà affrontare il viaggio in aereo, in nave per andare a vedere i piloti professionistici di alto livello. L'Off-Road Pro Racing è praticamente il mentor di questa manifestazione, ci sarà la possibilità di seguirla in diretta streaming, però avremo piacere di vedere le evoluzioni del nostro Centauro, anche perché bisogna ritornare in pista, subito. Bisogna ritornare in pista. Adesso vediamo se sarò presente oppure no, se no sarò presente come spettatore per ammirare questi piloti che faranno delle evoluzioni veramente di alto livello e non bisogna mancare, infatti sarà una delle poche occasioni del nord Sardegna di andare a vedere una gara e quindi secondo me il pubblico e gli spettatori saranno numerosi e anche gli appassionati che porteranno i propri figli a vedere questa carmessa di alto livello.